Mi chiamo Chiara, ho sette anni e ho il papà fullo in provincia di Modena. Siamo quattro figli e il più grande si chiama Riccardo, simpatica ed è la più altruista. Poi c'è Mirko, ci cerchiamo l'uno con l'altro e il più piccolino Davide. Bella. Il papà canta nel coro Voce del Fignano, si chiama Massimo e ha 46 anni. Eravamo a sentire il papà col coro e poi mi hanno chiesto se potevo cantare. Ha detto di sì. Mia mamma si chiama Jessica ma non vi dico quanti anni ha. Io scio perché mi piace e perché la mia mamma fa la maestra dei sci. Danza è bella perché... perché è bella. Atletica è bella perché mi alleno così alle gare e non arrivo ultimo. Io da grande vorrei fare la mamma, come la mia. Visto che i ragazzi non mi piacciono, mal che vada da grande farò l'anzia. Tra tutti i fratelli che ha l'anzia lo fa di sicuro. I calciofi mi fanno veramente... Brindisi! La 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 la! Facciamo un brindisi! E poi? Grazie! Grazie!